Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Ci aspettano ancora tanti giorni con il bel tempo e il clima soprattutto mite in montagna, con nebbie persistenti in pianura padana. Vedete come l'anticiclone proprio di matrice africano-spagnola tenderà proprio ad espandersi ancora in direzione delle nostre regioni settentrionali dell'Italia e così come sulla nostra regione orobica. Mentre vedete come le basse pressioni sono costrette a migrare a latitudini più settentrionali, vedete, fra l'Islanda, le isole britanniche e via via spostandosi verso la Scandinavia e non riescono ad attraversare l'Europa occidentale. Per cui non arriveranno delle precipitazioni di rilievo sui nostri monti orobici neppure nella prossima settimana. Infatti se vediamo l'evoluzione proprio per i prossimi giorni abbiamo indicato un inverno KO, questo anticiclone che protegge tutto il bacino centro-occidentale del Mediterraneo. Vedete come questo trenino di perturbazioni è costretto a passare dalla Scozia via via verso la Scandinavia e poi verso la Bielorussia e la Russia. Per cui ancora per diversi giorni avremo questa stabilità atmosferica caratterizzata dal clima decisamente emita in montagna. Per fortuna lo zero termico nei prossimi giorni è previsto in graduale e lento abbassamento. Questo favorirà quindi un raffreddamento graduale anche in montagna. Da sottolineare le nebbie persistenti nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e Lago di Seo anche nella prossima settimana. Ma andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani. Abbiamo indicato qualche nebbia soprattutto al mattino nella zona della Bassa Valle Seriana e eventualmente nella zona del basso Lago di Seo dove potrebbe persistere questo tempo ancora grigio talora nebbioso. Però nel corso della giornata queste nebbie dovrebbero sollevarsi e determinare un tempo tipicamente variabile con nubi alternate a schiarite. Abbiamo indicato qualche nuvola al mattino anche nella zona dell'Alta Valle Seriana e Valle di Scalve con una pressione atmosferica molto elevata, siamo in pieno anticiclone, pressione a 1032 millibar. Nel pomeriggio abbiamo indicato nubi alternate a schiarite in montagna ma comunque in un contesto di bel tempo quindi un tempo decisamente buono con uno zero termico in abbassamento intorno ai 2900 metri di altitudine. Evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana, abbiamo detto una settimana caratterizzata dall'anticiclone quindi stabilità atmosferica e vediamo come andrà nella giornata di lunedì addirittura pressione atmosferica a 1034 millibar quindi davvero uno schiacciamento di questa pressione verso il basso e quindi ristagno anche di inquinanti soprattutto in pianura e nei valli più interne. Zero termico abbiamo indicato 2700 metri di altitudine, una temperatura abbastanza fresca al mattino abbiamo indicato meno 1 o meno 2 gradi nella città di Clusone massime che dovrebbero non andare oltre gli 11-12 gradi. giornate fra martedì e mercoledì pressoché non cambia nulla, cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, talora nebbioso nella zona della bassa Valle Seriana. Zero termico abbiamo indicato fra i 2800 e i 2700 metri di altitudine e temperature comprese fra un grado di minima e 11 gradi di massima Clusone. giovedì abbiamo indicato stabilità atmosferica, farà un pochino più fresco, vedete come le temperature e soprattutto lo zero termico in montagna tenderà a scendere intorno a una quota di 2500 metri più consona al periodo invernale. Venerdì ho indicato ancora più fresco con zero termico addirittura in abbassamento a 2100 metri di altitudine, qualche nuvola probabilmente nel corso della giornata ma che non dovrebbe disturbare il nostro territorio in atteso di un prossimo fine settimana che dovrebbe essere ancora in compagnia del sole e delle temperature più fresche. E per il meteo tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.